Di AwebTV ci troviamo tra Villanova, in particolare Frazione Branzola, sulla strada che porta Pianfei. Questa è la situazione che da mesi va avanti. Decine e decine di sacchi della spazzatura e relativi rifiuti vengono probabilmente lanciati da qualche auto in corsa. Comunque vengono depositati sui cili della strada, per tutta la lunghezza della strada. Grazie. 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 Grazie.